Un vodemecum per aiutare i detenuti a orientarsi nei meandri della comunità penitenziaria. Lo ha realizzato il Comitato regionale per i diritti umani, presieduto dal Presidente dell'Assemblea legislativa Mauro Laus, con l'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. La pubblicazione, edita dal Centro Stampa della Regione, è curata dall'Associazione Sapori Reclusi nell'ambito del progetto Stampati in Galera, ospitato all'interno della Casa circondariale di Saluzzo, è stata presentata a Palazzo Lascaris e verrà distribuita alla popolazione detenuta piemontese. Con la Vice Presidente del Comitato, Enrica Baricco, e il Garante Mellano, sono intervenuti la direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, Laura Scomparin, e il nuovo provveditore dell'Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte, Liberato Guerriero. Oggi ci troviamo ad aver stampato questi due opuscoli, a dare in mano ai detenuti uno strumento che può essere usato sia per conoscere i propri diritti, ma sia per riuscire ad informarsi perfettamente su chi può aiutarti a conoscerli, a pretenderli e a fare, a svolgere la tua vita all'interno delle carceri. A questo seguirà questa stesura di questi documenti una fase di distribuzione che si è già attivata anche grazie all'Università di Torino, in modo tale che tutti ne siano a conoscenza e che possibilmente tutti possono averne una in mano perché sia davvero di aiuto per la propria vita. Lo strumento, voluto dal Consiglio regionale, prodotto dall'Ufficio del Garante, è uno strumento piccolo ma importante che si affianca ad una guida realizzata dagli studenti e dai docenti dell'Università che ha un taglio molto innovativo e molto divulgativo. Per cercare di agevolare la popolazione detenuta, ma anche gli operatori penitenziari, i volontari, la comunità penitenziaria nel suo insieme ad essere più utile nel reinserimento, nel recupero, nella rieducazione, come prevede l'articolo 27 della Costituzione, delle persone che sono in esecuzione penale. Oltre 4.000 detenuti in Piemonte ad oggi, ma altre 3.000 persone sono in esecuzione penale esterna. Questo vuol dire che sono comunque sotto il gioco del diritto penale e dell'esecuzione penale ed è importante riuscire a rendere utile, quindi produttivo, il percorso di detenzione. Altrimenti ricadiamo nella recidiva, nel ritorno a delinquere, nel ripercorrere gli stessi errori e le stesse tracce già seguite.